Ci troviamo presso l'AMG Performance Center di Perugia, centro specializzato della concessionaria Rossi Mercedes-Benz, interamente dedicato al marchio AMG e al team di Formula 1 Mercedes-AMG Petronas, sette volte campioni del mondo di seguito. Il cliente qui può toccare con mano, configurare e provare su strada i modelli AMG, oltre che trovare un vasto assortimento di merchandising dedicato al marchio. La GLA 35 AMG rappresenta l'ingresso al mondo performance di AMG, ha un motore benzina sovralimentato da 1991 cm3 con 306 CV che accelera da 0 a 100 in 5 secondi e 2 per una velocità massima di 250 km orari. Di grande estetica è il kit aerodinamico che comprende anche la mascherina specifica AMG con lamelle verticali. A contrasto con la vernice bianco polare abbiamo il pacchetto Night 2 che colora in nero anche la griglia del radiatore e le scritte denominative del modello. L'assetto prevede delle sospensioni regolabili attive con un cerchio da 20 pollici e 5 doppie razze e le pinze dei freni ad alte prestazioni in colore rosso. Gli altri dettagli del pacchetto Night colorano in nero lucido anche le cornici e i mancorrenti superiori oltre che gli scarichi e l'estrattore dell'aria. Abbiamo anche un alettone nell'appendice posteriore per aumentare l'aerodinamica. È una vettura che mantiene anche la tipica versatilità di GLA con un bagagliaio da 435 litri che abbattendo i sedili diventano 1430 e dei sedili comfort in pelle microfibra dinamica che oltre a essere sportivi e di grande estetica sono anche comodi per avere tanto spazio per la testa e per le spalle. Questa GLA è equipaggiata con il pacchetto Luxury che include anche sedili elettrici con memorie che tra le funzioni hanno anche il riscaldamento oltre che il tetto panoramico e i fari a led adattivi multi beam. Tra i particolari estetici troviamo anche le soglie illuminate con scritta AMG. La vettura è dotata anche di luci ambient variabili in 64 colorazioni e impianto audio Boomster. Il volante performance è in pelle nappa e microfibra. Tenendo premuta una paletta e premendo il tasto di accensione possiamo eseguire l'accensione e motion start AMG. Il tasto al volante AMG di destra ci permette di modificare i setup di guida alternando una guida confortevole a una guida più sportiva o a una guida per superfici scivolose. Il tasto di sinistra invece ci permette di scegliere tra i vari parametri che possiamo controllare della vettura e agire direttamente dallo sterzo o altrimenti dalla console centrale possiamo modificare parametri quali le sospensioni o inibire il controllo elettronico di stabilità. Nel menu performance possiamo monitorare i consumi, i dati specifici del motore oltre che creare una configurazione del profilo individua. Per tutte le funzioni telematiche le visualizzazioni non manca l'assistente AMG. E i Mercedes? Apri i dati motore. Anche il display davanti al volante è facilmente configurabile con grafiche specifiche AMG. Oltre alla sportività non manca la sicurezza. Di serie abbiamo il pacchetto di assistenza alla guida di livello 1 che tra i sistemi comprende l'antisbandamento attivo e il sistema di assistenza alla frenata attivo in caso di distrazione. Venite a scoprirla nell'AMG Performance Center di Perugia.